La Sidiga Savellino saluta Firenze e si avvia ad una lunga pausa determinata dalle nazionali e che diventa di riflessione su quanto avvenuto al Mandela Forum. Il passo falso in Germania, la sconfitta di Bonn nella sera in cui la scandone non ha saputo approfittare dello scivolone di Zielona Gora, retrocedendo in Europe Cup, è passato in parte inosservato nell'ambiente irpino che guardava oltre, già pronto a lanciarsi nell'atmosfera di Coppa Italia, tornando con la menta dieci anni fa al trofeo vinto a Casalicchio di Reno. La carica del Pala del Mauro e il più 30 su Pistoia in campionato apparivano alla vigilia della competizione tricolore come energie positive per presentarsi a Firenze con il ruolo designato e meritato al termine del girone di andata, il ruolo di testa di serie numero uno. Al Mandela Forum, Avellino non ha mostrato il potenziale a disposizione, tornando a casa con due record personali per la storia della scandone in Coppa Italia, i 30 punti di Rich e i 19 rimbalzi di Fesenco, che sono la sintesi di quanto non costruito nei 45 minuti di squadra dalla Sidigas. Un K.O. che appare come un punto di non ritorno, da superare nel breve periodo per cancellare l'incubo dell'eliminazione, la seconda in pochi giorni in due trofei. Ad Avellino restano Europe Cup campionato e tanti interrogativi per un finale di febbraio davvero imprevedibile alla vigilia.